a roberti ecco è partito si è oh però si è mai dai facci la piglietta da tattara da tattara da tattara da tattara e come no senti mamma mia ma che c'è io capito ciao ciao mi raccomando vai però no no faccia meglio se vede ce porto io no no la città 2 c'è il condizionatore per l'aria fredda non fa male ma sai che mia sorella lavora dai santi ha chiuso ecco per questo io lavoravo dai santi ma noi lavoriamo tutti mica facciamo pizza e fighi ma che cazzo ma che scherzi ma conosci i sequel di sequel di sequel come cazzo si chiama di sequel esatto è il negozio di i froci mi sono la c'è una borsa a casa che ha pagato 220 euro non se la mette sempre di 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 su è ok ok che posso dare 20 per cento e c'è finita la spesa dai c'è cazzo non si è mangiato tutto no 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 ricominciamo Siamo a 22 agosto, che c***o, sono entrato a... Chi è? Un crotino? Oh, sai che mi dicevano? Rupertino si fanno le cose che dicevano la prolattinanza, lo scopà, gli ormoni scombusti... Senti, mi devi dire la verità però, che ti sei presa stasera? Lassilante, Lassilante, come c***o si chiama? Che c***o ne so tu, che ti sei presa? Ti senti quella che si piglia la corona, dai paghi in cromo rilascio prolungato 300-500... Si, con la super c***o a destra che si porta a sinistra... Ah, esatto, quello! Ma andiamo un bacio a corona! Dai, manda un bacio a corona! Vedi Belen? Oh, che carina Belen! Ti la daresti una botta, ti la verità! Tutta rifatta! Ma è bella o rifatta? Ma è un troione! Quella è una donna tutta rifatta, guarda io, 40 anni! Un fiore! Col calvario col superato! Un fiore! Tu pensa, se io non avessi superato quel calvario col superato diventi... Cioè, era una super figa! Ma che scherzi! Una super figa! Ma che scherzi! Ioi ragazzi! Ma non capisco, quant'andiamo di moto! Io! Ah! Il tavolare! Il falolare! Il presto è il presto! Un po' deluo! Ehi! Cosa! 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 Ehi! ho fatto la cultura del segno, quella che me devo prendere, quel cazzo altro me devo prendere le si è pippata, 10 grammi di cocaina l'anima di Cristo le si è pippata va a casa dai, rubetti mi saluti, mi madre? ciao, ciao olè olè, ciao dai, rubetti dai, ora vado a casa ma noi già abbottiamo tu pensavi che mi piava il corpo quando me ne sono andata quel giorno eh, ho detto vado a cazzo la rubetti poi riparti eh, vai, riparti con i cuffi e vai olè, mi ha chiamato mia madre, ma che sai, 2,51 o mezzanotte, l'una meno 20, ok oddio che cazzo, ora domani è un'altra giornata, rialzate l'aria che ha rifatti, ha rifai non ho trombata mai, no, no ma che ti piace di più, non mi parte o Simone? Simone carino Simone Simone ce l'ha più lungo no, a me mi piaceva arte allora, che cazzo non ho avuto mai a fare, scusa certo mi sono fissata io gli sto a fare stalking come sa a quel ragazzo sì, a lui, eh a noi no, però dai, è partita, eh ok, vai, tieni, questa è l'acqua ciao ciao acqua ah, tu hai fissuto oh, tu hai fissuto tanti, tu hai fissuto cazzo, cazzo hai fissuto